Presidente Pandolfi della Federpharma, cosa cambia con l'accordo siglato oggi con l'ASL Salerno? Dal 5 giugno alcuni principi attivi, o meglio alcuni medicinali, che prima venivano distribuiti attraverso le farmacie distrittuali, saranno dispensate dalle farmacie aperte sul territorio, sia dalle farmacie private che dalle farmacie comunali. Quante sono le farmacie coinvolte? Sono tutte le farmacie presenti in provincia di Salerno, un totale di 360 farmacie. E chi ne beneficerà? Soprattutto gli utenti, che potranno ritirare questi farmaci legati a particolari patologie, in tutte le farmacie, in tutti i comuni, e quindi avere un maggiore accesso a questi farmaci che prima venivano ritirati presso le farmacie distrittuali. Questo è un progetto della regione Campania, che veniva già praticato in altre province della regione, che dal 5 giugno sarà fatto qui anche a Salerno. Ecco, Salerno si mette al passo con le altre province, ma nelle altre regioni come funziona? Anche nelle altre regioni esiste questo metodo di distribuzione, insiste quasi in tutta Italia. Può cambiare la tipologia dei farmaci che vengono dispensati con questo metodo, però sostanzialmente il sistema PPC è presente in tutta Italia.